Benvenuti alla nostra rubrica leggere liberi. La notizia è di qualche giorno fa, ancora uomini, donne, bambini che muoiono nel Mediterraneo e che restano lì sepolti chissà dove. Cosa sono per noi? Sono soltanto numeri buoni per le statistiche o sono nomi, cognomi, volti di persone partite alla ricerca di un sogno. Non dirmi che hai paura di Giuseppe Catozzella, premio strega giovani nel 2014, narra proprio la storia vera di una ragazza somala di Mogadiscio che nei primi anni 2000 vede tristemente infrangere i suoi sogni proprio tra le onde del mar Mediterraneo. Samia, così si chiama questa bimbetta, aveva una grande passione, correre, ma purtroppo era una bambina poverissima, una bambina senza mezzi, una bambina che doveva lottare con tutta la sua grinta e determinazione contro un destino avverso, un destino segnato dall'avvento del gruppo terroristico, tra l'altro al-Shabaab che con un colpo di stato occupò il potere in Somalia e da quel giorno in poi soltanto polvere da sparo, soltanto attentati, soltanto violenze, le donne potevano uscire esclusivamente con il burka, non erano concessi spazi di libertà, ma con la sua grinta, con la sua forza riuscì a farsi notare dal comitato olimpico somalo e corsa dopo corsa riuscì anche a staccare il biglietto per le olimpiadi di Pechino del 2008, un sogno cominciava ad avverarsi e arrivò la gara dei 200 metri, boom, la pistola, un voato dalla folla, le altre sono partite come gazzelle, come libellule o colibri, velocissime, hanno abbandonato i blocchi senza che io nemmeno me ne rendessi conto, mi sono accorta che avrei perso la gara già dal primo momento, a ogni falcata il distacco tra me e il gruppo aumentava, incolmabile, le avversarie tagliavano l'aria, da dietro parevano puledere che avanzavano nel vento, ho continuato a correre, ho alzato la testa e ho spinto al massimo, ero ancora alla curva quando le altre già tiravano il fiato oltre il traguardo, ho corso la seconda metà della pista da sola, ma in quegli ultimi 50 metri è accaduto una cosa inaspettata, una parte del pubblico si è alzata in piedi e ha cominciato a battere le mani, in sincrono, mi incitavano, gridavano il mio nome, mi incoraggiavano, avrei preferito che non lo facessero, che non si accorgessero che ero così inferiore, ho tagliato il traguardo quasi dieci secondi dopo la prima Veronica Campbell Brown, e come avrebbe mai potuto vincere la piccola Samia contro delle atlete cresciute, allevate, potremmo dire, per diventare delle campionesse come Veronica Campbell Brown, come avrebbe mai potuto vincere, Samia se ne rende conto, ma pensa già alle successive Olimpiadi 2012, Londra, ma in Somalia cosa avrebbe potuto fare, quindi decide di fare come la sorella, di partire anche lei, di tentare alla sorte di arrivare in Europa, dove avrebbe trovato un buon allenatore, dove avrebbe trovato le condizioni migliori per partecipare alle Olimpiadi di Londra, e il resto lo lascio a voi, vi lascerò leggere questa storia emozionante, questa storia commovente, questa storia che di certo a voi, a tutti noi e ai nostri ragazzi, offrirà tanti spunti, tanti insegnamenti, uno fra tutti, quando c'è la passione, nessuno potrà mai togliercela, nessuno potrà mai tarpare le ali a una farfalla. Bene, allora grazie, ci vediamo la prossima settimana e mi raccomando venite sempre a trovarci sul nostro sito web e sui nostri canali social. Grazie a tutti.